Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tra i nomi dei possibili candidati dei partiti di centrodestra a livello marchigiano per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, ci sono almeno tre assessori regionali, Guido Castelli per Fratelli d'Italia, Mirko Carloni e Giorgio Alattini della Lega. Il governatore Francesco Acquaroli non conferma la voce che era circolata negli ultimi giorni su una possibile chiusura delle porte dell'esecutivo di Palazzo Raffaello per coloro che correranno per una poltrona a Roma, senza riuscire a candidarsi. Ma il messaggio che manda i suoi assessori è comunque chiaro, aperto a parlare con tutti, ma il governo della regione resta la priorità. Sentiamolo. In realtà ancora è tutto molto prematuro perché noi siamo concentrati sulla legge 13 che è una legge assolutamente prioritaria per la nostra regione, che ridarà forza alla sanità nei territori e che ci consentirà di costruire le risposte che tanto sono attese e necessarie anche per costruire un percorso importante rispetto alla diminuzione degli accessi in pronti soccorso, al lancio delle case della salute, alla ricenerazione dei territori e dell'entroterra e di tutti i territori che sono rimasti senza medici e medicina generale. Quindi in questo contesto dove noi siamo molto concentrati sulla sanità e contiamo entro ferragosto di chiudere in Consiglio regionale la legge 13, la riforma della legge 13, c'è una discussione che riguarda anche le elezioni politiche che nessuno di noi si aspettava potessero arrivare così presto. In questa discussione si guarda le esigenze dei partiti ma anche le esigenze della Giunta. Ne discuteremo nelle prossime settimane. Io sono aperto a parlare con tutti di tutto ma è chiaro che per me il Governo della Regione e per noi il Governo della Regione rimane una priorità indiscussa. Presidente Accoroli, in vista del voto del 25 settembre, gli ultimi sondaggi danno Fratelli d'Italia al 25%? Ma guardi, io non guardo mai i sondaggi come lei sa, né quando sono favorevoli né quando non sono favorevoli. Io resto sempre concentrato sulle cose che dobbiamo fare perché secondo me comunque l'importante della politica è riuscire a seguire le percezioni reali, le esigenze, le necessità. I sondaggi sono la cattura di un momento, di un'opinione, di una sensazione istantanea che credo non debba appartenere al dibattito politico che invece ha una necessità di concentrarsi su talmente tante priorità e secondo me le forze che riusciranno a dare le risposte a queste priorità saranno sicuramente premiate dai cittadini. Certamente fa più piacere quando il proprio partito gode di tanta stima e di tanto entusiasmo piuttosto che quando questo stima e entusiasmo sono percepiti in maniera minore.